e salve simmers io sono marichelle e oggi sto per ricreare la sim per la vincitrice del quiz ilaria fasto una delle due vincitrici perché l'altra vincitrice è cecilia comunque sto per ricreare la sim vincitrice e la creerò esattamente come mi ha detto ilaria fasto di fare o almeno ci proverò mi ha dato delle linee generali linee guida generali e io ci riproverò vi lascerò ad una musichetta farò un makeover con la musichetta velocizzando il tutto ma spero vi piacerà l'unica cosa è che ilaria mi ha detto di mettere qualcosa sulla fama qualcosa sulla fama non c'è del tutto diciamo non proprio sulla fama per adesso c'è la popolarità però quindi magari posso mettere leader della comitiva e poi magari non lo so se lei vorrà cambiarlo quando c'era il nuovo pack potrà farlo intanto creo la sim ilaria spero ti piacerà quindi iniziamo potrà farlo intanto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, Esther è stata fatta, spero Ilaria che ti piaccia. Ovviamente l'ho caricata in galleria quindi se la vorrai cambiare, modificare potrai farlo. Io ci ho messo l'impegno quindi spero comunque ti piaccia di base. Così è in abiti quotidiani, in abiti formali, anche se ormai l'avrai vista e rivista, abiti sportivi, da notte, da festa e con questa pettinatura mi piaceva tantissimo. Poi da bagno, che bella, per il caldo e per il freddo così da stare in casa e così da uscire. Ovviamente ragazzi spero di aver divertito anche tutti gli altri iscritti che mi hanno visto creare la sim, spero piaccia a tutti voi, potete scaricarla dalla galleria. Quindi mi fermo qui, ci vediamo nei prossimi gameplay, ciao!